Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Sembrava un folletto! Minchione! Minchione! Minchia si assucava! Pure i coglioni si aspirava! A pezzo de merda! A fighe d'androchia! A pezzo de merda! Oh cazzo ma dovessi sucare! Oh cazzo figlio di puttana! Spero che quel cornuto di merda di tuo padre è bastardo morto del cazzo! Grazie mille Noc! Grazie mille per i 5 abbonamenti! Grazie di cuore! Grazie di cuore Noc! Grazie per i 5 abbonamenti! E buongiorno anche a Toff! Benvenuto col Prime! Ciao bello benvenuto! Sometimes I speak in Italian! Don't worry! Ok? Don't worry if I speak in Italian! Grazie intanto agli amici di Tic! Grazie ragazzi! Grazie mille! Grazie mille! I don't speak English! You speak English? No, no, no! Faccio! Faccio tu! No, 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 no! Eh no eh! Faccio! Faccio tu! No, no! Faccio tu! Ok! Yaya yaya yaya! Yaya yaya yaya! Yaya yaya yaya! Porco diavolo! Ti ho detto di stare zitto minchione! Sempre a parlare perché porco dia tu hai 4 armi e ti infili nel culo alle pastiglie! Coglione! E vince Nettuno con 160 punti! Mica spero che tua madre ti ho caro te la inculano quei quattro cazzoni col cazzo piccolo! Coglione di me! Ma vai a fa' culo, idiota! Merda! E passa al Nettuno a 160! Non so bene come mai! Merda! Su Discord! Come cazzo se setta la a voce audio? Vuoi mettere il tasto minuto giù? Un tasto destro a bassi! Si vorrei metti capito, erate esatto un tasto per muta tutto! Quando devi fare così devi fare! Associazione tasti sta sotto! Sì bravo! Diglielo tu vai! Sì sì così! Fa' su importazione che può associazione i tasti! Ci stai? Ma sotto dove? Sempre su voce video? Dere! Sì Sì! C'è Dere! C'è Dere! C'è Dere! C'è Dere! C'è Dere! C'è Dere! No non c'è Dere! 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 è pronta la pappa raga 202 corone questo qua ha spinto forte e raga questo qua ha spinto forte mi sa che è pronta la pappa e poi ci buttiamo a warm appare su fall raga oggi andrà così e domani anche poi ci torneremo normale che cazzo è sta roba ok è pronto è certo che è pronta la pazza non ho capito guarda mitico questo che robetta questo qua fortnite la mia vita amo solo fortnite odio la figa merda qualcuno lo uccida perché riesco a vedere questo qua in cocaina non sta mai fermo questo raga è in cocaina piena con più di 500 corone e blur ne ha 570 quindi è molto probabile che io non non parteciperò eh sì per questo stiamo cercando di contattare manuxo e zazzone siamo per la tripla e ci proviamo cioè io metto già in conto ripeto che cacceranno me non ci credo giusto giusto cazzo questa è proprio sfiga faccio l'ultima in duo fill un pochettino i maz non facile inquadrata adesso anche la leaderboard quisi vino mersa tason setti cami grippi flixi idro eye drop e mappi cittin intanto a zazzone perché muorettini e anche pur ciao a chillato da setti in questo momento cittin che ha visto che c'è arcadia fire bello questo 30 bello bellissimo non sono capace andiamo a sparare easy allora si va signori una corona oggi dobbiamo cercare di farne almeno altre 5 andiamo torniamo concentrati torniamo in no build e andiamo vamos ok prendo un culo sto livello fa vomitare il peggio figlio di puttana mi ha grabato figlio di puttana spero che tua madre venga in culata con un bastone di tuono pezzo di merda pezzo di merda pezzo di merda puoi mi manca l'ultima kill da fare con la spada non ho la crown tra l'altro eh la visione in pubblica un po' stucchi va là ma questo troppa munizioni a caso proprio figo e lo scopriremo martedì toni e questa era la fine delle grand final di fortnite vorrei vedere al volo come si è chiuso il tabellone lo vediamo insieme vincono 100 mila dollari quisi e abbiamo fatto una valanga di corone oggi eh ragazzi questo solo così sa giocare ma io godo godo e mi scopo tua madre minchia tiro in faccia anche io figlio di puttana minchia cosa godo pure io pezzo di merda la spada laser dio caro te la apro nell'ano e te lo squarcio a metà fino alla gola ma bastardo andiamo la durata saluto subito un po' di ragazzi che stanno già guardando la live buongiorno albi buongiorno ricky penna buongiorno anche a maticus pro buongiorno lori ricky maya good morning zoom a terry gamer respect danny fabio chiara buongiorno jasmine buongiorno svalvo tommy hate san valen gabri giovi giugio la buongiorno bertinetti un saluto grande anche a tutti gli amici su tic che ci stanno guardando grazie mille al signor marco che sta sbombardando cose come se non ci fosse un domani grazie signor marco grazie di cuore grazie di cuore buongiorno intanto anche al signor franci hanno messo il portone per farlo mangiare in cucina che non ci passava ma per amore franci non ricordi gentilmente le cose grazie mille intanto per il music play per lo scoiattolo e per i regali niente marco impazzito 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 grazie mille anche a franci per il secondo mese buongiorno anche a tutti i ragazzi insomma pezzo di merda buoni spero che tua madre è calcolata da un bastone di tuono che cos'è Zeus un bastone di tuono veramente tua madre t'ha cagato dal culo invece che partorirti da quella fottuta figa trova un modo per scappare mi sa che sta già scappando putrick ma li buca non lo vuole mollare attenzione abbiamo perso anche ping purtroppo chiedato da giannis mica putrick è riuscito a scappare sul serio ma li buca non lo trova stanno artist contro l'isci e orcadia fire attenzione aiuto aiuto andando andando dovevi mettere la mano perché mi fa fare le cose di fretta guardate con me pezzi di coglioni perché vi spratco la faccia la scena che ho visto prima non mi non mi non non non